Questo momento di studio che abbiamo organizzato per oggi e per domani è un aggiornamento dell'azienda, l'abbiamo costruito come aggiornamento obbligatorio, quindi con fondi dell'azienda, è un percorso che è stato abbastanza faticoso ma che poi porterà speriamo dei buoni frutti. Io prima di spiegarvi bene come funzionerà questo corso, perché c'è bisogno della collaborazione di tutti voi e l'impegno di tutti voi perché poi come avrete visto nel programma dovremmo stare qua mattina sera in maniera intensa, intensiva, visto che siamo anestesisti, volevo ringraziare tutta una serie di persone che ci hanno permesso di essere qua. In particolare vorrei ringraziare prima di tutto i relatori, Sandro Marroni, che voi sapete che è il presidente del DAN e che ogni volta che richiediamo cortesemente di venire, pur essendo un uomo che tutti i giorni da qualche parte del mondo trova sempre lo spazio per venire qui in Sardegna. Vorrei ringraziare Valeria Campanaro, che è la presidente dell'Antei, l'Antei è la società dei tecnici perbarici italiana, Human, che è il presidente dell'Associazione Europea dei tecnici perbarici, e poi Pasquale Longobardi, che come voi conoscete tutti, è il responsabile del centro di Ravenna, è nel bordo della società europea e nel bordo della società italiana. Anche lui ogni volta che gli chiediamo di venire è gentilissimo e viene sempre qua. E oggi loro si cimenteranno con noi in un'operazione che adesso vi spiegherò, che non è semplicissima ma con la vostra collaborazione diventa particolarmente interessante. Questo corso verrà gestito con la tecnica dell'audit. Cosa vuol dire? Presenteremo dei casi e li discuteremo un pochino come qualche volta facciamo nella nostra reanimazione il lunedì, che prendiamo la cartella clinica, ci prendiamo il paziente, lo discutiamo alle volte in maniera molto animata, ma tutto questo serve a crescere e poi a fare il bene del paziente. Quindi c'è bisogno della collaborazione, non stamattina ma stasera e domani ci divideremo in gruppi di studio. Praticamente ci sarà una prima relazione introduttiva dove il relatore ci presenterà le linee guida europee, poi verrà presentato un caso o due case a secondo del momento, ci divideremo in tre gruppi, discuteremo e faremo il nostro compitino discutendolo in gruppi, lo ritorniamo in sala qua e confronteremo gli nostri elaborati, comprese quelli dei relatori, che si faranno un quarto gruppo e quindi vedremo lo scostamento, se ci sarà, tra i nostri elaborati e gli elaborati fatti dai relatori secondo le linee guida europee. Tutto questo serve a crescere, quindi fatto in grande simpatia, senza litigare tra di noi, ma discutendo, mettiamo tutte le nostre conoscenze, serve a crescere e a fare in modo di andare avanti. Un'altra piccola cosa importante, qua in questa aula, con noi, oggi ci sono i colleghi della Camera Iperbarica della Maddalena, i colleghi della Camera Iperbarica di Platamona, l'Università di Cagliari. Questo perché? Perché serve a arricchirci tutti insieme, serve da domani a migliorare ulteriormente, avere lo stesso trattamento a Cagliari, a Maddalena e a Platamona. Serve a collaborare, ad avere anche un'altra cosa che adesso vi farò vedere, i dati, in maniera che, siccome l'isola è abbastanza piccola, i dati che arrivano, riusciamo a concentrare, riusciamo a sapere esattamente quello che succede in Sardegna, anno per anno, e quindi se stiamo andando bene o male. Abbiamo pensato, in prima battuta, di verificare quello che stavamo facendo in Sardegna, non solo noi, ma anche con Carlo e con gli altri colleghi, per poi poter pianificare le eventuali strategie per migliorare e per incidere sulla malattia della decompressione. Stiamo parlando, naturalmente, di questo. Avanti. E abbiamo seguito questo tipo di profilo. Abbiamo fatto uno studio epidemiologico, qua stiamo parlando del 2001, ma avevamo dei dati che siamo tornati indietro di 10 anni. Abbiamo visto quali erano, secondo noi, le criticità del problema, quindi abbiamo identificato il problema relativamente alla patologia della decompressione, abbiamo pianificato alcuni interventi e abbiamo iniziato a fare, abbiamo ritenuto di dover fare formazione sui diving. E siamo andati a fare formazione sui diving. Abbiamo verificato all'anno successivo i dati, se qualcosa incideva sull'epidemiologia, e poi vi farò vedere. Siamo andati a fare un secondo step. Abbiamo formato il 118. Non tutto il 118, perché non avevamo le energie, però abbiamo informato, abbiamo preso contatti con la centrale operativa di Cagliari e abbiamo dato delle indicazioni relativamente al soccorso sui dive, sui pazienti subacquei. L'anno scorso abbiamo stabilito questo accordo, per cui qualunque paziente avesse avuto una patologia della compressione, si sollevava l'elicottero. Questo ha permesso due cose. Uno, di non fermare il paziente in guardia medica, pronto soccorso, per dire di oristano, quindi due o tre step prima di arrivare da noi, ma direttamente dal mare a noi. Quindi riduzione di tempo. Secondo, formazione dei medici, l'elicottero è medicalizzato, quindi è bastato dare delle indicazioni ai colleghi del 118 che andavano sull'elicottero, e quindi il trattamento è stato specialistico già dai primi minuti. Abbiamo fatto ulteriore verifica, oggi siamo a fare il terzo step, che è quello di riqualificare noi stessi. Quindi il nostro centro, il centro di Maddalena, è in collaborazione con i colleghi di Platamona, con l'aiuto dell'Università e di tutte le associazioni, DAN, Ante, l'Associazione Europea, in maniera tale da riuscire ancora a migliorare ulteriormente. Perché l'anno scorso noi siamo riusciti ad avere il paziente spesso in mezz'ora qua dentro e ha messo in crisi la struttura. Perché se prima arrivava in sei ore e c'era tutto il tempo per poter attivare la struttura in sei ore, se ti arriva in mezz'ora, i tempi a questo punto siamo noi che dobbiamo velocizzarci e migliorare. Dal 1993 al 2005 noi abbiamo trattato in associazione i due centri, Nord e Sud Sardegna, 347 pazienti, divisi equamente, non l'abbiamo fatta apposta, metà Maddalena e metà Cagliari. Scusatemi che spengo. Come vedete c'è un aumento intorno al 98-99 della casistica e poi pian pianino è andato scendendo soprattutto nel 2004 e nel 2005 che qui non è segnato. Andiamo avanti. Ma la cosa più interessante è questa che adesso vi faccio vedere. fino al 2004 quindi la casistica dal 93 al 2003 compresa cosa è successo? Che il 57% dei pazienti sono usciti dai nostri centri di Cagliari e Maddalena perfettamente senza più nessuna sintomatologia quindi diciamo assolutamente con sintomatologia squaliti completamente. il 36% è andato via che aveva ancora dei reliquati che poi sono scomparsi però quindi migliorati ma non totalmente guariti. C'era un piccolo zoccolo che è quello su cui ci siamo impegnati un 7% che non è tantissimo ma che sono pazienti che sono andati via con sintomatologia gravissima neurologica leggiamo la paraplegia paraparesi situazioni molto difficili quindi sicuramente ci siamo impegnati su questo zoccoletto dopo tutti questi quindi abbiamo lavorato come vi ho detto già sui dive sul 118 oggi stiamo lavorando su di noi e vediamo che cosa è successo con quei primi due step ah sì l'attività formativa ecco volevo fare poi vi faccio vedere quello che è cambiato l'attività formativa che abbiamo sviluppato è iniziata nel 2001 con un incontro con i subacquei e dive in provincia di Cagliari poi se ve lo ricordate invece eravamo tutti al primo memore al Boero Giancarlo Boero di cui ricordo la figura poi siamo andati a Maddalena abbiamo fatto il congresso regionale a Maddalena abbiamo fatto un corso itinerante a ROI che è stato promosso dal DAN da noi e dal SIMSI e la ROI ha accettato e abbiamo girato tutta Italia in 12 sedi regionali riportando lo stesso messaggio siamo tornati a Cagliari nel 2004 al nostro congresso regionale l'anno scorso siamo andati in Capitaneria di Porto abbiamo fatto un corso in Capitaneria di Porto sempre rivolto ai diving e al 118 e sono venuti gli amici del 118 e poi siamo andati al CIS nuovamente con i subacquei e oggi al centro vedete l'attività che stiamo facendo per fare tutte queste cose non è che le fa il singolo si riesce a farle se mettiamo in rete tutta una serie di figure e devo dire che abbiamo avuto molto fortuna perché tutti hanno accettato quest'idea hanno contribuito sono stati partecipi alla grande dentro questo progetto e come vedete ci sono le società mi sono dimenticato l'antei perdono Valeria il Dan Europe l'azienda sanitaria locale di Cagliari e di Olbia e anche di Sassari che ci ha aiutato quando siamo andati a Maddalena l'Università degli Studi che collabora con noi ringrazio a Nenne che ci sta sempre con attenzione ci segue con attenzione i diving di cui ormai hanno il nostro cellulare e ci chiamano direttamente dalla barca quando non ha un problema il 118 la Capitaneria di Porto abbiamo ormai dei rapporti veramente molto belli molto interessanti e le forze dell'ordine di cui veramente alcune con alcuni siamo ormai diventati amici ecco volevo farvi vedere quella diapositiva vi faccio vedere vedete questi sono i dati che vi ho fatto vedere prima che cosa è successo nel 2004 nel 2005 che quella colonna degli scomparsi dal 67% è passata all'82% i migliorati dal 36% al 18% quindi è scomparsa quella colonna del 7% quindi come vedete tutto lo sforzo che hanno fatto tutte queste persone che si sono messe in rette ha portato a a un miglioramento dell'epidemiologia speriamo di riuscire a continuare perché potremmo anche dire che è un po' di fortuna speriamo che non sia fortuna che sia l'esito di un lavoro fatto con serietà qual è il messaggio che abbiamo voluto dare è un messaggio molto elementare perché ci stavamo rivolgendo ai diving alle forze dell'ordine la rapidità e l'adeguatezza del primo soccorso incidono direttamente sull'outcome la possibilità di respirare ossigeno puro subito dai primi minuti e la reidratazione precoce insieme a un contenimento dei tempi tra l'evento e il trattamento otti entro le tre ore noi diciamo riducono la progressività della patologia e talvolta migliorano notevolmente la sintomatologia certamente l'anno scorso è stata proprio drammatica la caduta perché l'intervento dell'elicottero l'ossigeno ha fatto subito in barca dai diving un trattamento specialistico immediatamente nel giro di 20 minuti è successo un caso che mi hanno chiamato gli amici da Villa Simius mentre mi stavano parlando al telefono è atterrato l'elicottero cioè sono stati dei tempi veramente eccezionali molto brevi grazie a tutti Grazie a tutti.